Dimmi la verità però, guardami, c'è stato solo un bacio? Mi dispiace dire questa cosa perché magari può creare imbarazzo, ma è più forte di me, non ce la faccio, non ce la faccio, abbiamo fatto l'amore. Ecco, come fai? Come fai ad essere così? Allora Maria, ma non ti dì seduta che fai più bene, ma vai seduta, qui non c'è il padre che si scandalizza. Allora, se è stato a mentire per un'ora, ok? A dire e che viene fuori che lui dice abbiamo fatto l'amore, ma peggio mi sento. Ma posso dire una cosa? A principi della confessione si era già capito, non è che doveva confessarlo lui, ma tu hai pianto ieri, mica voglio aggiungere un bacetto. Ma lui sta parlando che è successo ieri, ragazzi, lui è venuto lì, noi siamo stati fino alle 3 di mattina. No, ma sono io che l'ho cercata questa, lo volevo io, volevo io andare da lei e farlo, lo volevo, lo volevo perché mi piace. Maria, si è creata un'intimità ma non è stato quello, cioè, come lo devo dire? Devi dire, cioè. Ma lui può dire quello che gli pare? Non è vero. Non è vero, perché ieri abbiamo creato un'intimità ma non è stato, cioè non è stato fare l'amore. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero.